Come ti sembra questo Armored Core? Una figata! Riperto, come ho detto all'inizio live, non è che sono appassionato di mecha e compagnia per niente, anzi per chi mi conosce lo sa che io con sci-fi, roba che va verso quelle sfere... Però questo è veramente molto divertente sotto le mani. Può essere un piccolo paletto nel culo se lo approcci in modo sbagliato. Perché se tu ti approcci ad Armored Core come se fosse un Souls-like, te lo pianta. Perché in realtà Armored Core è molto più tecnico, ci stanno statistiche molto ben precise. Diciamo che non è anche banalmente il Souls dove tu fai Fashion Souls. Cioè dove tu ti metti della roba che ti dà delle difese, delle cose a cazzo, ma magari che ti fa il personaggio bello. Se tu qua fai una roba del genere, crei un ammasso dei componenti che non workano per il cazzo insieme. Però è figo, perché se tu sei schillato proprio di mani nelle schivate compagnia, è veramente fin da subito estremamente divertente. Perché ti dà proprio quel senso di essere un nonnipotente, ma di stare dentro al robottone che fai bordello e compagnia. Mentre se sei già più alle prime armi, a un certo punto incontrerai per forza un muro che può venire prima o dopo. Però che poi, se sei una persona buona di mentalità, cioè che non reggia a caso, ma che cerca di capire dove hai sbagliato, è una figata perché ti vai a mettere nel garage e lì scopri il mondo. Cioè lì scopri le statistiche. Infatti penso che c'è stato proprio quello step up extra, mi pare tra l'episodio 2 e 3, o tra il 3 e il 4, perché mi ero messo un attimo a fare i compitini. Però io continuo a dire, se devo dare veramente il più grande difetto di questo gioco al momento, i dialoghi sono qualcosa veramente che mi dà l'ulcera. Cioè io capisco che questo dà l'ulcera a me perché io sono interessato anche tanto alla storia. Quindi immagino una persona che magari gli frega un cazzo, le fa bang, 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 robottoni, pizze, gli frega un cazzo. Però io controllerò, ma non credo, potevano fare che almeno i dialoghi venivano registrati nei codex. Ci stanno gli archivi con tutte le cose che trovi. Mettimi anche gli archivi delle conversazioni. Perché se no veramente io mi immagino un povero Cristo, che non è tipo io che posso andare a rivedere a live perché devo montarle, quindi me la leggo con calma. Io mi immagino un povero Cristo che si mette là in mezzo a prendersi le pizze a cazzo. Qualcuno potrà venirne pure a deal. Eh vabbè ma tanto quando la fai la prima volta la missione non c'hai il rango quindi puoi morire e compagnia. Ho capito. Ma che rottura dei coglioni. Che me devo far pia a pizze sui denti per leggere i tu dialoghi. Ma già anche la banalità del mettergli uno sfondo. Ma tu puoi farmi in mezzo alle esplosioni atomiche gialle, rosse, tutti i colori a cazzo a scritta bianca così. È come quando mi sono andato a rivedere la live della volta scorsa in cui Raven non è che dice te sto veni qua da per ditte il culo, te voglio far male, te voglio uccidere. No no, Raven stava là per testarti. Raven stava là per ditte bro questo forse può essere uno come noi. E cazzo è importante come cosa? È il più grande problema. Cioè se voi volete seguire un po' di storia dovete sudare. Però per il resto è un gioco della madonna. È veramente bello. Poi è ottimizzato di Cristo. Io penso sia il gioco from software più ben ottimizzato che hanno fatto uscire negli ultimi tempi. Veramente, veramente una manna. L'RTX è introdotto de merda. Ma non ho inteso che fa lagga o altro. È che è proprio fatto male. I riflessi non sono mai nella vita quelli che dovrebbero essere... Sì sono solo nel menu davvero. Perché tu vedi qualsiasi superficie di flesso, luce. Sono proprio il riflesso quello standard, sapete no? Da gioco vecchio in cui ti fanno vedere il riflesso del mondo. E poi sti cazzi. Cioè io onestamente l'RTX è una solita roba che per me potrebbe pure non esistere. Bello se ci stanno i riflessi. Fighissimo le luci. Ma se mi deve sfottere l'esperienza del gioco no onestamente. Se io me lo ritrovo su un Dragon's Dogma 2. Sborro se lo trovo su un Dragon's Dogma 2. Ma qua in mezzo alle esplosioni faccio astento a stare appresso ai dialoghi. Secondo te mi metto a notare il riflesso dell'acqua per terra? Non è vero.